Uno dei prodotti più importanti nella tradizione di questa azienda è il rostrato, è una lavorazione particolare. Il rostrato, che è una lavorazione molto difficile, altro non è che la capacità del maestro di buttare dei fili di vetro e riuscire nel tempo più breve possibile, per evitare l'indurimento del pasta vitrea, a punzecchiare ogni piccolo pezzettino di vetro, pinzarli e tirarli verso l'esterno, in modo da creare una serie di righe che sono tutte più o meno simili per dare questa capacità al vetro di trasmettere la luce dall'interno all'esterno.